Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Dubitz E oggi ragazzi siamo qui in compagnia di Checo Saluta, saluta Salve, saluta Perché siamo qui ragazzi per fare una nuovissima vanilla nella 1.20.4 In cui ragazzi cercheremo di finire il gioco, di completare il gioco Perché è una cosa che non siamo mai riusciti a fare nelle scorse vanille Però in questa ragazzi ce la faremo E per quanto riguarda la scorsa vanille diciamo che ho perso il mondo Quindi è andata male Però questo è salvato quindi stavolta non accadrà più niente Eccoci ragazzi qua di fronte a un bellissimo tramonto insieme a Checo Molto romantico, vero Checo? Adesso ci facciamo un bacino Io attraverasserei questo oceano anche perché tra poco è notte Appia sta sabbia Fate subito la pala che scaviamo Così ci facciamo tutto il vetro Oh, 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 oh Cosa c'è laggiù? Ho visto una cosa molto interessante Checo Cosa hai visto? Ho visto un bel portale E sento anche tanti scheletri e ovviamente devo essere Dov'è? Devo essere il primo a No Ad avere quest'achievement Mi serve cibo e sto neanche una soltanto scheletri Oh vabbè però questo c'ha le inbox Vabbè c'è No, ho mezzo cuore Ok Lasciami il mio pollo Eh, anche io ho un cibo Eh, io ho mezzo cuore però Eh, io ho un cibo Dammi il pollo Dai Prendi Hai Stai iniziando malissimo Hai cose Il carbone Il pietra A due cuore Passata di pietra Che cosa c'è là davanti? Guarda Un cazzone di sap Quanti porci bro Sto facendo un fugo No, abbiamo proprio tratto la colonia dei porci Cibo, cibo Come cacchè Fai il cibo No, 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 no Faccio mezzo cuore Non c'è male questa avventura Molto male Ok, io c'ho un cuore Anche sono morto Che co? Allora, l'avventura iniziata abbastanza male comunque Malissimo direi Eh, io non c'ho niente per te Tieni, ho due piume Del cibo No, del cibo Eh, no, non ne ho per te Vieni, andiamo a cacciare Vieni a cacciare Aspettate Tu caccii con un legno Mi faccio Vai, vai, polli Allora Mi prendo la barca subito Anche perché tanto un creeper mi ha fatto esplodere vicino alla lava Perciò mi credo che mi root Allora, mi faccio Una bella boot Adesso che andiamo Immediatamente Dall'altra parte dell'oceano Che questa parte Mi sa che è sfortunata Questa parte del mondo Vieni, vieni, vieni Per dopo Dopo l'avrai Vieni adesso Adesso andiamo al mare Adesso andiamo al mare Vieni Pecco Davanti a noi Guarda che provata Che faccio Madonna Ecco qua C'è l'oceano serio Sperando che la pioggia se ne vada Da quest'altro Perché vedi Secondo me è la pioggia Che sta portando sfortuna Ora che ora Che ti cambi uscivi Poi da sto chunk In cui sarà tutto tranquillo Oh Finalmente ha smesso Madonna Ma qui c'è Oddio Ma qua c'è la sabbia con la neve Ah e lì c'è il ghia Siamo in un ghiacciaio Non è proprio un bel bioma Questo No è un pessimo Non c'è mai nulla Eh già Quindi Levati 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 Scenda La barca Inca barcava Andiamo per di qua Mettela barca Eh ma troppo fa No non c'è nulla per andare con la barca Qua si ristoppa Fai entrare in questa barca Cesta Diamante Ferro Buono Ok L'altra cesta dov'è No no Non posso Ok Ok che trovo la seconda cesta Yes bra Baff Cosa c'era Ok Non posso Corre Non posso nuotare per entrarci Dov'è Non te lo dico Dai mi dal cibo L'ho trovata Libro Adesso muoio anche io Adesso muoio anche io Non ho cibo Ho una costretta Aiuto Checco Checco Eccomi Checco Sei morto eh Insomma Allora Hai preso cibo almeno Si si mi sono fatto anche gli inventori Buono 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 Allora continuiamo Dove stiamo Da là Da là siamo arrivati prima Quindi andiamo di qua Vediamo se Magari un altro giorno Direi trovare almeno lo spot per casa nostra in questo video Così da Saper Cosa fare Carina 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 Qua c'è una montagna Che cosa Oh Fra Guarda su Non l'ho mai visto io te Io si Ma Cioè si Potremmo Stanziarci qua No Forse no Fra C'è una bella base dentro Cosa di Cherry Vieni qua Vieni qua Vieni da me Vieni da me Scusa Cosa Abbiamo una bella cavernina qua Ci stanzieremo qua Attento Dietro C'è un creeper Al sedere Ok Allora Che ti direi Vuoi costruirla qui La casa Un attimo Sto volando Sto esplorando Sì una giornata È finita me Vieni da me Vieni da me Perché c'era il ferro Che ho trovato Cosa è successo È tipo una pianuretta Una piccola pianura Che ho Adesso arrivo Credo No Non è proprio una pianura Però Dove sei? Qui Qui Ci sono dei cavalli La Eh Ci sono due cavalli Sì Eccoti Eccoti E tu sei il terzo Eh Stalone italiano Vai allora Checco Allora ragazzi Per questo video È tutto Noi ci vediamo Per la costruzione Della nostra casa Nel Spero Prossimo video Io vi ringrazio A tutti Per aver partecipato Se siete arrivati fino a qui Mi raccomando Lasciate like E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Per un prossimo video Ciao Ciao Ciao